Musica In questo caso voi siamo qua per pullare e intanto andiamoci a fare quelle che sono le classiche singolette qua Intanto partiamo ovviamente con il ticket parte 1, partiamo un po' da quello che vediamo E' stato pronto con i big shaft, e no regà, forco 2 no Quando esce secondo voi, perfetto, è un sin, perfetto, quindi mail counter me l'aspetto Questo è mail counter, quando c'è l'esprit nel cielo dovrebbe essere un sin, quindi mail counter Mail counter, diana, king verde, gg for me Un consiglio, in effetti da un mese circa non ho un grandissimo box, ha 650 gemme Che faccio con 650, io direi almeno sulle 200 puoi spenderle Almeno sulle 200 puoi spenderle, non arrivare al GSSR perché poi la diventa un pull fino a chi non trova qualcosa Ed è sbagliato, è assolutamente sbagliato Merlin rossa, ci sta E questo dovrebbe essere la rossa Ci sta, ci sta, vabbè, niente eccezionale Non è che è un ticket parte 1, nel senso Magari Rugal, magari, è un ticket parte 1 Oh, magari Rugal sarei veramente contento di prenderlo ragazzi Tra l'altro faccio un piccolo annuncio, che lo dissi anche da tempo indietro A chi interessa, a chi interessa, lo dissi anche da tempo fa Stavo vendendo il mio account di Dokkan Global E già assolutamente no Ma il Dokkan Global lo sto vendendo Chiunque sia interessato mi scrive in privato, semplicemente In privato, sul Discord, a comunque interessi del mondo di Dokkan Global Il mio account è di Dokkan Global, boys, il mio main Perché non ci rovo più al Global, gioco al JAP e basta È sempre stato così da più di un anno Quindi ormai è il momento di liberarsene, mettiamola in questo modo Quindi Non posso dire i pezzi quasi così in chat Semplicemente, se siete interessati, si vedete in privato Tutto qua Ecco qua, partiamo, intanto continuiamo Vi ripeto, se avete poche gemme Non pullateci SSR qua Ok Tra poco, dai Prendiamo di pulare Andiamo su Genshin, voice What the fuck No, ma questo è un ticket, ragazzi È un ticket per gli SSR e SSR Delle dee, tra l'altro Quindi Riple così, il che non c'è Ma sono sicuro che se ci fosse stato Rudo Sera Dovete tolato lui Vi spiegate il senso di questa cosa Beh, ho potuto spiegare Questa cosa Ma non scuole più Che Questa singola Ha Messo vicina la vetra sopra Le pulcate le vanno fatte da poco Bene praterieri Che ragazzi per il foglio Benvenuto Cioè io sto parlando Tra l'altro era quella Che più si poteva bramare Cioè Cioè 6% Poi mi rivecca Lo 0.3 Che vabbè Tutto in 0.3 Però Insomma Nel senso C'era Arbam C'era Garland C'era King Elisabeth Melcounter E invece GG GG Cazzo Adesso possiamo già dire una cosa Adesso sappiamo già che in tutto quello che andrò a pulare su bandone di Kyo O su bandone di Kyo in generale sarà Shaft Già lo sappiamo ormai Abbiamo già visto come sarà Singoletta Oak Perfetto Al massimo è un sin E potrebbe essere i goter O tra parentesi Fermi A parte no Oak vuol dire Elisabeth Omi Jodas Quindi Ripper in generale Melcounter al massimo Fa veramente schifo Leo grazie Ma non è possibile Io faccio una singola Dalle parti due Ragazzi lo so Che vedevo di Ante la fortuna Gira per tutti Shaft qua Scurro da un'altra parte Scurro qua E shafto sul jump C'è un po' da fa Un po' da fa Di fatto C'era Oak Animation Non potrebbe essere altrimenti Prossima singola E dai Dammi Dammi sto Sta mai Dammi che sta mai Mai esce da noi Ragazzi Se mi esce mai Io sbrocco Io divento un broccolo Divento Io sbrocco Vado fuori Di cervello io Mai Mai Ma Sapete Se persi e non perde Può essere Un SSR Ci ho sperato fino alla fine Vi devo dire la verità Ci ho sperato fino alla fine Cazzo Ci ho sperato Veramente fino alla fine Ma veramente fino alla fine Veramente fino alla fine Cazzo Ce l'ho sperato E invece Invece Com'è il solito Invece Prima multidicennata Dai Che la fortuna Può essere con noi Con il nostro spirito Pull Escamativo Sub In chat Pull Escamativo Prime Se volete Fare la sub Con Amazon Prime Quella derriere Ve l'ho detto Ci ha sminchiato Tutto 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 Quella derriere Ci ha sminchiato Tutto quello Che poteva sminchiarci Io ho già visto Io ho già visto Come andrà a finire Questo pull Io ho già visto Ragazzi Ho già visto Derriere Però no Cioè Non mi doveva usci Derriere E poi mi fasce un cazzo Nel bundle di cough E che cazzo Regà Che culo Steven What the fuck 3SR in fila E c'è una mosca Che mi ronza Non la mangio Avessi sul giappe Sto Simon qua What the fuck What the fuck Regà Che culo Che culo Derriere Poi mi dà un cazzo Derriere Ma un SR brillava Eh Si regà Devo ancora aprire sta cosa Perché un SR brilla L'altro non brilla Cioè Non l'ho mai capito Sta roba Ma sono sempre chiesto Ma nessuno Ha mai saputo Tami una risposta Cioè Non l'ho mai vista Nessuno dirla Più che altro Anche Mai visto Cioè Ho detto Brilla Così è casa Anche perché Se poi vai a vedere Che cazzo di differenza C'è tra uno che brilla E uno che non brilla Non lo so Vai all in Non è che è fake out Vero No C'è la release blue Non è mai fake out Quando c'è la release blue E qua ci sarebbe stato Un bel troll Fake out Sarebbe stato Veramente bello Dai c'è il ticket Chi ho Arthur blue Mai Wtf Chi ho Chi ho Arthur blue Mai Hai trovato Paul Ma fai schifo Scusa Che cazzo Di quello hai avuto Cazzo Ti ha mandato Un nuance Dove hai giocato Su Twitch Per antidocan global Va bene Va bene Ah vi ripeto ancora Chiunque sia interessato Al mercato Di docan global Viene un tattino Privato Che lo sto vendendo Quindi Chiunque sia interessato Bello C'è Quale logica Uno Quinterebbe Uno Bill E l'altro No Sono curioso Di sapere Quale logica C'è dietro Sta fantastica Roba Perché Vorrei capire No Vorrei capire Anch'io È un must Everything Router Ho ancora un KGM Che faccio The bomb Ti fermi Assolutamente Ho beccato Con te Vede La seconda Intentativa Ho beccato Più Fui una sceppa Per tutte le sue Settativi Rippissime Quanto è speso Ai Nero Quanto è speso Quanto è speso In teoria Dovremmo poter fare Un'altra multa Oltre questo Ma perché Non c'è mai Un pleto Fammi un counter Almeno Porco Due Pareggio Tutto pareggio Pareggio Lui pareggia Lui pareggia Non fate pareggiare Lui pareggia 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 Porco due Però SSR Perché ho trovato Quella derriere Perché ho trovato Quella derriere Io Perché ho trovato Quella derriere Bella BCF Ragazzi Voglio Una Orda Di F In chat Voglio Uno spam Di F F A manetta Ragazzi Perché Cazzo Ho trovato Quella derriere Ma cos'è La punti di prima C'è C'è Io intanto Amico un solo Perché Tra poco Suggesti Non farò Qualche singoletta Noi lo spero Nella manna Dal cielo Che qualche singola Di porti fortuna Qua Grazie Per il follow Che Adesso Il tuo sedere E vabbè Sedere Il mio Sedere Sedere Delle mie Brame Perché L'ha fatto Trovare Del mio Reame No Era Del mio Reame No Era Il mio Reame Quindi Perché Mi ha fatto Trovare Quella Delle No Vabbè Una Affalancata Come cazzo Si può Dì Sedere Sedere Delle Delle mie Brame Perché Mi ha fatto Squillare Quella Delle Del cazzo Di Reame No Mi dissocio Perché Sennò Di Un cazzo Di Rame No Signore Switch Stavo Scherzando No 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 Mi dissocio A mani basse Proprio Scusate Signori No Mi dissocio Stavo Scherzando Siamo Siamo Sulla Guagliardia In questo momento Tranquilli Per favore Raga Voi Non Avete È un Fick Out Oh Mi dissocio Cazzo Mi dà Che due minuti Succedono Due cose Belle No Bella Merzuvia E Te Parà Ci fosse Elisabeth Te Parea E Via Tre Cosi E Via Chi Non Mi Porta Fortuna Shafterà Per Il Resto Dei Suoi Giorni Proprio Per Tutta La Vita Proprio È vero È vero Kultex Mi hai visto Nel mini Infatti Mi sono soppreso Di me stesso Ultima Multi Let's go Dai Roba nel cielo Voglio vedere Oh Fermi È uno Però È uno Vabbè Scesa Contenza Di quell'uno Dammi mai Cazzo Dammi mai 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 Non ce ne Neanche Ho Quindi Mi Adesso Counter Dai Dai Su Dai Come che Culo L'egas A parte Dessa Multi Questa Può Anche Vedere Un SSR Ho Chiesto Mai È Il Shaft Z Da Steven Cosa No Ma come Go There What The Fuck Omega GG Parco 2 Terza Multi Sì Ho Scurato I Punto Di Giapo Perché Su Giapo Ho Portato La Quarta E Come Si Suol Dire Ora Si Smette Di Fullare E Let's Go Parco 2 Ma No Lux Non Farlo No Non Non Lo Fare Non Come Addire Steph No Jesus Non Si Mi Fallo Jesus Gazz Mille Benvenuto Ti Ti Ho Trovato Che Culo Bella Youtube Fanno Si Soldini Che Si Scula Si Scula E Via Assuali Dai Ora Aspetta Un bellissimo E simpaticissimo Fake out Ciao Tubo No Vabbè E Let's Go E Calla Su Ciao Fa Ciao Fa Dai Su Ciao Fa C'è Mi Immagino C'è il titolo Del video Di domani Sculo I due Personaggi Più Forti Del gioco Gother E Derieni A posto Easy Win Via Presta Multi Adelico A tutti Quelli Che Hanno Fatto La Sub Oggi Bella Con Altra Un Poi Leggio Quindi A teslax E anche Agli altri Grazie a tutti I boys Grazie Davvero E anche Poi li hanno Followato Allora Ragazzi Mancano 50 follower Precisi Ai 11 K Su twitch Ragazzi Dai Dai Condividete Forse c'è pure Il fake out Se si blocco male Voglio mai Vabbè Ci speravo Ci speravo E ci speravo E ci speravo E ci speravo E fa pure Lo screen E fa pure Lo screen E ora Perché si pula Per niente Perché Ho già trovato Il pg Più forte Del gioco No Non è lui Bro K Pagote rosso E lo butta Nel secco Ora boys Intanto Se venite Da youtube Grazie a tutti Mi raccomando Iscrivetevi al canale Ovviamente Un bel like Ovviamente Ancora una volta Boys Guardate tutti gli altri video Guardate in sinistra Basta Nelle schede Basta 100 iscrivetevi Con Tutto veloce Da accendere Tutti i giorni Live su twitch Link in descrizione E let's go Boys